Vi siete mai chiesti perché i clown ci fanno così paura? In teoria sono nati per far divertire i bambini, eppure negli ultimi decenni sempre più persone ne sono terrorizzate. Un tempo tutti li amavano, tutti ridevano con loro, ma dopo la storia che sto per raccontarvi, tutto è cambiato. Ciao belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di non accettare palloncini dai clown, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Me l'avete chiesto tantissime volte, tipo sempre da quando ho aperto il canale, per cui oggi vi racconto l'agghiacciante storia di John Wayne Gacy, l'uomo che ha terrorizzato tanti bambini e ragazzini, e anche l'individuo a cui dare la colpa se oggi tutti noi odiamo i clown. Come al solito però prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, metto il link in descrizione, trovate tutte le magliette che indosso nei video, tipo questa, ammiratela quanto è bella, High Coffee, anziché High Satan perché noi non diciamo queste cose. Con il codice Andrew ovviamente riceverete anche delle calze a vostra scelta in omaggio. Detto questo vi ricordo anche che è uscita la cosa bellissima che mi chiedete da quando ho aperto il canale. Si chiama Red Room ed è un podcast in cui io ed Eli di Eli in Crimeland vi raccontiamo le vicende più inquietanti che riusciamo a trovare. Nella prima stagione, nello specifico, parliamo delle vere storie che hanno ispirato film horror e Gialli, quindi sono sicurissimo che vi piacerà. Ci trovate su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast cercando Red Room, ma vi lascio comunque il link in descrizione e nei commenti. Se oltre che a sentirci volete anche vederci, siamo anche su YouTube, dove potete vedere anche la parte video del podcast. Quindi dopo questo video vi aspetto anche lì su Red Room. In teoria, mentre vedete questo video, sono già disponibili due episodi, quindi niente, spero che vi piacerà e cominciamo ufficialmente con la storia di Gacy. Partiamo dall'infanzia di John, perché è proprio lì la chiave che ci aiuterà a comprendere le sue azioni. Non ci sono ovviamente giustificazioni per quello che farà, ma scoprirete che da lì, dall'infanzia, molte cose già non andavano. Quindi innanzitutto mi scuso perché ho un po' di mal di gola, quindi non so che problemi avrà la mia voce durante questo video. Comunque, John Wayne Gacy nasce a Chicago il 17 marzo 1942. Piccola curiosità, il 17 marzo è relativamente un giorno di festa, tipo, da noi si festeggia l'Unità d'Italia, ma è anche la festa di San Patrizio. Cosa c'entra questo con il caso di oggi? Niente, era solo per darvi delle informazioni in più. Comunque, per quanto il 17 marzo sia un giorno festoso, per John il fatto di essere venuto al mondo non è affatto una festa. Non perché ci siano stati problemi col parto, ma perché è nato in una famiglia decisamente marcia. Immergiamoci un attimo nel contesto. Anno 1942. Praticamente in piena seconda guerra mondiale. Negli Stati Uniti si sta abbastanza bene, tra mille virgolette, ma siamo in un tempo in cui molte battaglie e rivoluzioni sociali non sono ancora avvenute. Questo perché si sta già combattendo, ma una guerra mondiale, quindi non esiste lontanamente la sensibilità dei nostri tempi. A quell'epoca i bambini maschi venivano educati a crescere in un contesto di virilità assoluta. Parliamo di sport, attività fisica e tutti i tratti della mascolinità tossica caratteristici di quell'epoca. Mentre se eri una femmina dovevi crescere prendendo esempio dalle altre. Venivi educata ad accudire i figli, la casa, il marito e basta. La televisione arriverà poco a poco, la diffusione su larga scala delle macchine pure. Quindi in un contesto del genere già capite che è difficile per un bambino crescere in maniera alternativa. Perché sì, John è obbligato a crescere in maniera abbastanza alternativa rispetto ai suoi coetanei. Il piccolo John, infatti, è obbligato a non seguire tutte queste norme sociali perché ha una sorta di insufficienza cardiaca, una condizione fisica che gli impedisce di muoversi troppo. Proprio fisicamente non può sostenere il peso di uno sport, specialmente quelli più famosi in America. Tenete conto anche che John è l'unico figlio maschio perché ha due sorelle, una più grande e una più piccola. Poi c'è la madre in famiglia di nome Marion Elaine Robinson e il padre John Stanley Gacy. John Senior, in pratica. E ora è il momento di parlare di lui perché è fondamentale che vi parli di John Senior. Quest'uomo è una persona decisamente schifosa. E con questa parola sono stato molto gentile perché si tratta di un padre violento, manesco e alcolizzato. E se già partiamo con un padre così, possiamo immaginare benissimo come sarà la vita del figlio. Ma ovviamente vi ricordo sempre che sono le scelte che fanno la differenza. Cioè non per forza avere i genitori più malati del mondo fa sì che i figli diventino serial killer. Ovvio, dipende dalle persone. John Wayne, purtroppo, è stato sfortunato a nascere in quel contesto così tanto tossico. E durante la sua vita diciamo che un po' lo ha deciso lui e un po' ci è stato portato a fare delle scelte, insomma, non proprio meravigliose. Ecco. Ma adesso vedrete. Il padre di John è abusante in ogni sua forma e per lui è inaccettabile che suo figlio, l'unico altro maschio della casa, non sia bravo negli sport e che passi molto tempo in casa con la madre e le sorelle. Cioè non voleva che stesse troppo tempo con loro due, ma perché? Il padre vede il nostro piccolo John come una delusione su tutti i fronti. Inoltre, crescendo diventa un po' sovrappeso, il John piccolo. E immaginate quindi la reazione del padre. In poche parole, questo è un motivo in più per picchiare suo figlio. Esatto, John Senior picchia tantissimo suo figlio, ma anche le figlie e la moglie, ovviamente. Se la prendeva con tutti. Ma non solo, perché pare che abusasse sessualmente di tutti loro. Cioè non solo della moglie, ma pure dei figli. Che schifo di uomo. Comunque, apro una piccola parentesi, e questa è solo una mia speculazione, quindi prendetela per quello che è. Secondo me, il fatto che John Senior abusasse di suo figlio, forse era una sorta di prova di mascolinità. Cioè per fargli rendere conto di essere una femminuccia. Lo chiamava spesso in questo modo denigratorio, infatti. Per cui, penso che il fatto di abusare di lui fosse un modo del padre di dimostrargli che era il solo e unico maschio alfa. E che John Junior, il piccolo, non sarebbe mai diventato come lui. Perché forse, stando al suo cervello, voleva insegnargli con arroganza che i veri uomini non si fanno sottomettere da nessuno. Ma dato che John Junior, il figlio, è obbligato a sottomettersi al padre, nascono in lui traumi su traumi. Il giovane John si sente inutile, o meglio, suo padre lo fa sentire inutile. E se la mia ipotesi fosse esatta, John Senior non era altro che un animale della giungla, praticamente. Cioè un animale, una persona di merda. Ma in effetti cosa possiamo aspettarci da un uomo super alcolizzato nato nei primi del Novecento? Magari a sua volta aveva subito violenza ed era stato abituato così. Come vedete però, questo non toglie la gravità delle schifezze che ha combinato la sua famiglia. Comunque questo è il contesto abominevole in cui John nasce e cresce. Sembra essere quello più abusato in famiglia e sviluppa per questo una voglia quasi ossessiva di essere accettato da tutti. Non lo è mai stato in famiglia, per cui sente sempre di più questa voglia di essere notato. Di far qualcosa che possa finalmente ergerlo al di sopra degli altri. Qualcosa che dimostrasse a tutti, ma anche a se stesso, che non era inutile. Anzi. Però attenzione, vuole fare qualcosa di buono. Cioè è arrabbiato con suo padre, ovviamente, ma vuole fare qualcosa di utile per gli altri. Ha bisogno degli altri per sentirsi qualcuno. Per sentirsi apprezzato per qualcosa. Ma non vuole sfogare la sua rabbia verso il prossimo. Non ancora. Lui anzi a quel tempo è molto docile. Questo anche per via degli abusi del padre. Cioè ragazzi, pensate che una volta, all'età di 4 anni, aveva fatto per sbaglio un casino al motore di un'auto che il padre aveva in garage. Quest'ultimo, una volta scoperto, lo picchiò con una cintura di cuoio. Gli diede ancora della femminuccia, dell'incapace e gli disse che sarebbe sicuramente cresciuto e femminato. Ovviamente John Signore intendeva qualcosa di dispregiativo. E vi ripeto che il piccolo John, quando è successa questa cosa, aveva solo 4 anni. Poi altra cosa che trovo allucinante è che nel 1949, quando John Junior ha solo 7 anni, entra in contatto con la sessualità in modo a dir poco brutale. Si dice infatti che insieme ad un suo amico avesse molestato una ragazza. I due sono stati beccati e ovviamente John Signore lo era venuto a sapere. E indovinate che cosa ha fatto? Lo ha picchiato. Ha picchiato ancora una volta suo figlio John. Quindi il maschio alfa, che vuole che suo figlio diventi un duro e un predatore di donne, lo picchia? Perché ha avuto come preda una donna. Vi ricordo che aveva 7 anni. Cioè, se a quell'età fai una cosa del genere, è chiaro come il sole che qualcosa è andato storto. Comunque il comportamento di suo padre è decisamente un paradosso. Se John Junior non faceva cose virili, lo picchiava. Se faceva cose virili, lo picchiava. Se provava ad interessarsi ai motori, o alle auto, lo picchiava perché era incapace. Ma cosa avrebbe dovuto fare John Junior per essere apprezzato? Praticamente l'unica opzione a quel punto era implodere per evitare di nascere. E forse John Senior, suo padre, lo avrebbe voluto. In realtà sembra proprio che qualunque scusa per lui fosse buona per picchiarlo. Perché evidentemente non lo voleva proprio come figlio. Come se non fosse abbastanza, John Wayne Gacy subisce delle violenze intime, anche da parte di un amico di famiglia. Parliamo di un uomo adulto, ragazzi. A questo punto, John ha 8 o 9 anni circa. E ne ha passate veramente di tutti i colori. Ma questa cosa dell'amico di famiglia fu come il colpo di grazia. Il piccolo John si era fidato di quell'uomo perché lui, per ingannarlo, gli aveva detto che gli avrebbe insegnato delle mosse di wrestling. E invece, altro che mosse di wrestling. Insomma, l'infanzia di John è un trauma dopo l'altro. Davvero triste e assurdo. Ce le ha passate veramente tutte. Qualsiasi cosa. Comunque quest'ennesima molestia, John se la tiene dentro. Non ne parla mai con nessuno, anche perché se solo avesse osato rivelarlo al padre, l'avrebbe picchiato come non aveva mai fatto prima. Tanto anche se respirava, lo picchiava. Ma non per questo John voleva peggiorare le cose. Non avrebbe dato suo padre la soddisfazione di deriderlo e di dargli ancora una volta della femminuccia per essersi fidato di un mostro bastardo. Così non dice nulla. Incassa questo ennesimo colpo e passa oltre. Per modo di dire, perché a queste cose non puoi passare oltre. Per quanto fosse nato in un inferno, John non vuole soffrire e basta. Come vi ho detto prima, cresce con la convinzione di voler fare qualcosa di utile per essere apprezzato, per essere qualcuno. Quindi facciamo un piccolo balzo temporale. Ora John ha compiuto 18 anni e diventa membro del Partito Democratico e si candida alle elezioni comunali. Praticamente in pochissimo tempo riesce a diventare una figura di spicco nella società. Fa da intermediario in un programma elettorale e gestisce la campagna in modo tale da farsi ascoltare da tutti e ottenere fiducia da tutti. Non diventa sindaco o cose simili, ma quel poco che fa nel mondo della politica gli fa guadagnare una sorta di fama. Era un ragazzo giovane, ma comunque molto molto bravo. Per cui le persone del posto non potevano che ammirarlo. Questo è un primo grande passo per lui. Il primo passo di un percorso che gli avrebbe fatto raggiungere l'approvazione generale di tutti. E ovviamente ne è estremamente orgoglioso. Forse questo è il primo successo della sua vita. E anche per questo abbandona l'ultimo anno di liceo e va per tre mesi a Los Angeles. E ci va da solo, così, per cambiare vita. In realtà, però, questi tre mesi, specialmente i primi giorni, non vanno benissimo. Riesce solo per puro caso a trovare un lavoro presso un'agenzia di pompe funebri. Gli danno il permesso di alloggiare lì perché lo vedono come un povero disperato. E quei pochi mesi a Los Angeles, però, sono importantissimi. E mi stupisce in realtà che se ne senta poco parlare. Mentre lavora in quell'agenzia, John dorme letteralmente vicino ai cadaveri. Ricorda in particolare il primo con cui dormì. Si trattava di un ragazzo adolescente. E forse ragazzi lo coccolava anche. Ma non è confermato al 100%. È sicuro però che provasse un certo piacere a stare lì. Anche se ovviamente sentiva che in lui ci fosse qualcosa di strano. Chiaramente in quei momenti capisce che quello che sta facendo non è normale. Ma non riesce a darsi una spiegazione. E semplicemente agisce e basta. Dopo questi tre mesi sente di essere diventato una persona diversa. Un po' più oscura. Quasi tenebrosa. E gli piace. John lascia quindi Los Angeles e torna a casa dai suoi a Chicago. Lì si dà comunque da fare. Non è un tipo a cui piace starsene con le mani in mano. Quindi nel marzo del 1964, dopo essersi laureato in economia e commercio, inizia a lavorare come direttore di un negozio di scarpe a Springfield. Vi ricordo velocemente che per l'epoca laurearsi non era cosa da tutti. E nemmeno ricoprire un ruolo discretamente importante come quello di direttore di un negozio. Diciamo che in questo periodo si sta dando parecchio da fare. Ora si trova a Springfield e avendo già dell'esperienza in politica decide di rendersi utile anche per questa comunità. È più forte di lui ormai. Si unisce quindi ad una sorta di gruppo, un'organizzazione diciamo senza scopo di lucro, che aiuta la comunità nell'ambito del lavoro e della professionalità aziendale. Non ho idea di che cosa significhi, questo è. In questa organizzazione si trova da Dio, passa i migliori anni della sua vita, ottiene anche grande prestigio anche a livello statale e diventa persino vicepresidente dell'organizzazione stessa. È loquace, spiritoso, un gran lavoratore, una persona di cui tutti si possono fidare. Vi ho colpiti, scusate. È quasi un miracolo il fatto che sia diventato così efficiente e gentile. È proprio l'esatto opposto del padre. John ricorda quel periodo in maniera molto felice, però per quanto sembri andare tutto a gonfie vele, nella sua vita c'è ancora spazio per altre gioie. Praticamente tutto quello che non ha avuto da bambino lo sta avendo adesso. Conosce una donna di nome Marilyn Myers, una collega dell'organizzazione. Iniziano ad uscire insieme, a frequentarsi e dopo nove mesi di relazione decidono anche di sposarsi. Mettono al mondo due bambini, Michael nato nel marzo del 67 e Christine nell'ottobre del 68. E addirittura arriva un'altra gioia, in realtà prima della nascita dei bambini. Accade che un giorno il suocero di John gli dice di aver acquistato tre filiali della famosissima catena di fast food KFC. Il suocero gli dice che ha bisogno di un manager per queste tre filiali e che ha pensato proprio a John per questo ruolo. Ovviamente l'uomo accetta perché ciò vuol dire ancora più prestigio, ancora più soldi, ancora più benessere. Si trasferisce così con sua moglie Marilyn nella città di Waterloo, nello stato dell'Iowa, per lavorare appunto in questi tre KFC. È lì che nascono i bambini e la sua vita diventa apparentemente perfetta. Ma in realtà non è affatto perfetta. Diciamo che è vero, ottiene grandi risultati professionali. È vero anche che si sposa, fa dei figli e lavora in tre KFC. Ed è pure vero che viene apprezzato da tutti. Ma quel marcio che aveva percepito ai tempi delle pompe funebri a Los Angeles inizia a prendere una forma molto, molto preoccupante. All'insaputa di tutti, John si comporta in modo parecchio discutibile. Pensate che prima di trasferirsi a Waterloo, ancora prima di sposarsi, aveva già tradito quella che sarebbe diventata sua moglie. Marilyn lo scoprì e lui si giustificò in tutti i modi. Quindi come abbiamo visto si sono sposati lo stesso, hanno figliato e si sono trasferiti in un'altra città. Lei quindi lo aveva perdonato, ma non sapeva che quello era solo l'inizio di una vita da incubo. Per quanto quello fosse un periodo in generale felice per John, diciamo che la realtà era molto più complicata. Lui al KFC è un manager molto alternativo, super simpatico, i suoi sottoposti sono felici di lavorare con lui e a quell'epoca vedere un dirigente così inclusivo, accomodante e rispettoso era davvero difficile. John invece è sempre disponibile, scherzoso, gentile, in poche parole è perfetto. Ha realizzato il suo sogno di essere qualcuno che conta, qualcuno di stimato dagli altri. La cosa particolarmente inquietante però è che durante questo periodo Roseo organizza delle feste molto esagerate insieme ai colleghi dell'organizzazione. Parlo sempre di quell'organizzazione non profit in cui aveva conosciuto sua moglie. Insieme anche ad altri conoscenti e colleghi, nello scantinato di casa, John festeggia più non posso e si lascia anche andare a certi istinti. Diciamo che ci prova in modo sessuale con alcuni suoi colleghi. Lui però, se vede che non ci stanno, dice che stava cercando e minimizza il tutto. Quindi in quel periodo vuole sperimentare sul corpo maschile, crede di essere in parte omosessuale e fin qui ok. Peccato però che non lo dice a sua moglie, anzi non lo dice a nessuno e cerca di ingannare le sue prede per portarsele a letto. Che da un lato lo capisco perché a quell'epoca non era proprio accettato il fatto di essere omosessuali, quindi in qualche modo bisognava nasconderlo. Erano davvero poche le persone che avevano il coraggio di fare coming out. Vabbè comunque in un modo o nell'altro John si vuole e si deve in parte nascondere. A quanto pare, pensate che ha avuto la sua vera prima esperienza sessuale, omosessuale scusate, nel 1964, poco dopo il suo matrimonio. Era stato invitato a casa di un collega e ad un certo punto della serata entrambi ubriachi sul divano hanno avuto un rapporto orale consensuale. Da lì il nostro John capì che era attratto dagli uomini, ma non uomini della sua età. Quelli giovani, i ragazzi, anche i minorenni. Ecco quindi che spunta un altro grosso problema. Si racconta che durante questi festini nel seminterrato o durante altri momenti John facesse delle avance ai suoi dipendenti. Arrivava anche a pagarli per fare cose con lui. Ma questi lui li chiamava i suoi esperimenti scientifici. Praticamente diceva a loro che stava conducendo degli esperimenti sugli uomini e che dovevano stare con lui non solo per contribuire alla scienza, ma anche per diventare veri uomini. Vi ricorda qualcuno? Perché in pratica diceva che non si diventa bravi a letto con le donne se prima non lo si fa con un uomo. Questo si ricollega ovviamente alla miatoria su suo padre. Forse John diceva queste cose proprio perché pensava fossero vere. Lo pensava perché nella sua infanzia ha dovuto viverle lui stesso. Ma comunque come facciamo a sapere questi dettagli così particolari sui suoi esperimenti scientifici? Ebbene, perché una delle sue prime vittime di molestie non solo sopravvisse, ma testimoniò. Si tratta di un uomo di nome Donald Voris. Donald è stato l'unico che ha avuto le palle di raccontare cosa gli è successo e cosa soprattutto gli ha fatto John. Come gli altri, John lo aveva convinto a partecipare a questo esperimento. In parole povere, a fare sesso con lui. Ma per il bene della ricerca scientifica? Lo avrebbe pagato 50 dollari che al tempo erano tipo come 400 dollari di adesso. Quindi quasi 400 euro. Donald, come gli altri, ci è cascato. E come gli altri è stato obbligato ad ubriacarsi per poi essere costretto a praticare del sesso orale su John. Non è chiaro se questo Donald fosse un suo dipendente però in alcuni articoli online si dice che fosse il figlio di un suo amico. Ma vabbè, poco importa perché John ha abusato a tutti gli effetti di un ragazzino. Donald quindi trova il coraggio di raccontare questo abuso a suo padre solo un anno dopo gli eventi. Aveva capito che quello che gli era successo era sbagliato. Era terribile. Ma all'inizio aveva paura di parlarne. John era un uomo rispettato. Aveva conoscenze importanti. Per cui Donald non era proprio sicuro che parlarne fosse la scelta giusta. Tuttavia dopo aver trovato il coraggio e averne parlato con suo padre quest'ultimo va su tutte le furie. L'uomo avrebbe fatto di tutto per farla pagare a John. Così lo denunciano e vincono subito la causa. Per John e per tutte le persone che lo conoscono questo è uno scandalo terribile. Ovviamente lui nega e nega ma sa che hanno ragione. In questo momento il suo mondo si sta sgretolando molto velocemente. Ogni cosa fatta fino a questo punto sta per svanire. Sarebbe ritornato ad essere una nullità come gli diceva suo padre. E questo non poteva permetterselo. Viene messo sotto processo perché fallisce il test del poligrafo. Piccolo aneddoto, era così sicuro che sarebbe stato dichiarato innocente che ha proposto lui stesso di fare il test. Si è scavato la fossa da solo in pratica. E a questo punto riesce a convincere dei suoi dipendenti a fare una cosa per lui. Una cosa molto pericolosa. Li paga per andare da Donald e dirgli di testimoniare a favore di John in aula. In poche parole lo devono convincere a dire che si era inventato tutto. Che John non aveva abusato di lui. E provano a convincerlo riempendolo di botte. Alla fine però queste persone che erano state pagate da John vengono beccate. E raccontano come sono andate le cose. Dicono che era stato John a pagarli per farlo. Donald intanto in aula testimonia contro l'aggressore. E racconta anche di questo pestaggio. Ovviamente anche questa volta John nega fino alla morte. Dice che però quel giorno, il giorno dello stupro, sarebbe stato Donald a chiedere a John di fare senso orale. E lui lo avrebbe semplicemente accontentato. Ovviamente nessuno gli crede. E da qui inizia a sgretolarsi tutto davvero. John Wayne Gacy viene accusato di sodomia nei confronti di Donald Voris. E viene condannato a 10 anni di reclusione. Il giorno della condanna, sua moglie Marilyn è devastata. Si è resa conto di aver sposato un pervertito. Una persona anche pericolosa. Ma nonostante tutto è stata buona. Troppo buona con lui. Chiede il divorzio e ottiene anche l'affidamento dei figli. John da quel momento non rivedrà mai più la sua ormai ex moglie e i loro due figli. Ovviamente perde anche il posto di lavoro come direttore dei ristoranti KFC. Tutto quello che aveva costruito finora è finito. Eppure non siamo neanche a metà della sua vita. E ancora non avete sentito niente. In prigione John riflette molto sulla sua vita e su quello che ha fatto. Ma soprattutto riflette su quello che dovrà ancora fare. Perché per quanto tragica fosse la sua situazione lui non voleva rendersi così. Molte cose sono in dubbio nella sua testa ma una è chiarissima. Non vuole fermarsi. Di sicuro comunque tutta questa vicenda lo ha traumatizzato ancora una volta. E lo ha cambiato. Purtroppo in peggio. Inizia a credere che la vita sia solo una merda. E comincia a pensare che avrebbe dovuto farsi accettare dalla società in qualche modo. E solo una volta accettato e riconosciuto da tutti avrebbe potuto soddisfare i suoi capricci. Sempre più perversi. Da bravo calcolatore, in carcere si comporta bene. Anzi in realtà si era sempre comportato bene con chi aveva in mano le sorti del suo destino. Quindi questa volta non è da meno. In circa un anno riesce a diventare capo cuoco della mensa della prigione. Riesce anche a far installare un campo da minigolf nel cortile. E diventa come un portavoce per gli altri detenuti. Li ascolta. Fa sentire la loro voce. Insomma in pochissimo tempo diventa un elemento molto importante in quell'ambiente. Quindi capite quanto fosse bravo. E' davvero triste che tutto ciò abbia dei fini loschi. Perché se solo non fosse stato la persona che era, il suo talento l'avrebbe portato molto lontano. Sembra come avere una sorta di tocco magico. Un qualcosa che lo rende utile e di successo ovunque si trovi. In qualsiasi comunità, gruppo o cerchia. E' talmente bravo ragazzi che i 10 anni che avrebbe dovuto passare in prigione diventano 18 mesi. Il 18 giugno 1970 viene scarcerato con 12 mesi di libertà condizionale. Vi rendete conto? Prima di venire rilasciato però viene sottoposto a delle visite psichiatriche. E gli viene diagnosticato un disturbo antisociale della personalità. Un disturbo che, citando una fonte medica, è caratterizzato da un modello pervasivo di disprezzo per le regole e le leggi altrui. Ma i suoi meriti in prigione furono così tanti che alla fine purtroppo al di là della sua condizione venne liberato. Cioè non era completamente libero, ma di sicuro era pronto a colpire ancora. Questo momento nella sua vita è fondamentale perché da qui assistiamo ad una sorta di trigger. Un meccanismo che scatta nella testa di John. Un qualcosa che lo fa diventare una persona ancora migliore all'apparenza, ma ancora più tenebrosa all'interno. E' la nascita del suo terrificante alter ego, Pogo il Clown. Dopo il rilascio dice di volersi trasferire a Chicago, la sua città natale. Vuole tornare a vivere con la madre. Nel frattempo infatti il padre, il terribile padre, è deceduto. E sicuramente vi starete chiedendo, ma perché vuole tornare proprio in quella casa? E avete ragione, quello era stato il posto più infelice della sua vita. Ma i motivi ci sono e sono tre. Il primo è il più banale, ovvero perché una volta uscito da galera, non sapeva dove andare. Cioè, una volta scarcerato, tutti avevano ormai tagliato i ponti con lui. Aveva perso ogni legame, anche con quella famosa organizzazione. Era logico che tornasse a casa dai suoi. Il secondo motivo è perché le cose in famiglia erano cambiate. Non era più un ambiente così tanto tossico per lui. Questo perché John Senior, il padre, prima di morire, era andato a congratularsi con John. Gli aveva fatto i complimenti per i successi professionali che stava ottenendo. In un'occasione, John racconta che gli aveva addirittura stretto la mano oltre a congratularsi. E pare che gli avesse chiesto anche scusa per il modo con il quale lo aveva trattato da piccolo. Era finalmente orgoglioso di lui. E questo ci porta al terzo motivo. Semplicemente per stare con sua madre. La donna verso cui comunque aveva sempre provato affetto. E così, di ritorno tra quelle mura, dopo il successo in prigione, continua a darsi da fare. Ma nel profondo, cova desideri sempre peggiori. Come sempre, all'apparenza, sembra l'uomo migliore del mondo. Ottiene un lavoro come aiuto cuoco in un ristorante e poco tempo dopo inizia a frequentare una donna di nome Carol Hoff. Questa è una signora divorziata con due figlie piccole, che era anche stata una sua ex fidanzata del liceo. Si sposano dopo poco tempo il primo luglio del 72. E a questo punto non è molto chiaro perché fosse così libero di fare qualsiasi cosa. Perché vi ricordo che almeno in teoria era in libertà vigilata. Nonostante questo, sembra che lui in realtà, una volta uscito dal carcere, fosse sempre stato completamente libero di fare qualsiasi cosa volesse. Quindi vabbè, lavora come cuoco, si sposa di nuovo e ha una casa che divide con la nuova moglie, Carol, e le sue due figlie. John comunque, adesso, è inarrestabile e punta ancora più in alto rispetto a prima. Apre così la sua impresa idile, la PDM Contractors. Inizialmente l'azienda si occupa di piccoli lavori manuali e di riparazione. Ma con il passare del tempo il business si amplia a dismisura fino ad arrivare a progettare complesse opere di costruzione. Che belli, i tempi in cui si aprivi un'attività poteva andare bene. Comunque la vita di John sta ripartendo alla grande. Di nuovo tutti lo adorano, specialmente i suoi vicini. Perché spesso lui si offre di aiutarli in piccole faccende, come curare loro il prato e cose del genere. Poi organizza delle feste pazzesche nel suo giardino. Invita tutti, bevono, festeggiano e mangiano la carne grigliata sul suo barbecue. Queste feste sono un po' come quelle che organizzava ai tempi nel suo vecchio seminterrato. Ma stavolta si stima che gli invitati ai suoi barbecue fossero sui 400. Cifre folli, un fiume di gente solo per stare con lui. John ha davvero qualcosa di magnetico. Pensate che qualche anno più tardi sarebbe riuscito ad ottenere una posizione di rilievo talmente estesa da riuscire a farsi fare una foto in cui stringe la mano alla First Lady Rosalind Carter. Questa foto è stata addirittura firmata dalla stessa First Lady, che ha scritto A John Gacy Cordiali saluti Rosalind Carter È come se John avesse fatto un patto col diavolo, ma uno di quei patti che hanno una fregatura. E la fregatura di John è che non vede l'ora di fare del male. Ma questa volta in maniera ancora più violenta, le sue prede, i ragazzi giovani. Non è affatto cambiato dai tempi del KFC, anzi è addirittura peggiorato. Mentre conduce a questa nuova vita, inizia a fare del volontariato travestendosi da clown. Praticamente diventa membro di un Jolly Joker Clown Club, i cui membri volontari, tutti mascherati da clown, si esibiscono regolarmente senza scopo di lucro in varie manifestazioni di beneficenza. Ma anche negli ospedali, dove danno spettacoli per i bambini malati. Alla fine del 1975 crea il suo distintivo personaggio, Pogo il Clown. In realtà non crea solo lui, ma decide di far nascere due clown, due suoi alter ego. Pogo è il suo personaggio più festoso, allegro e simpatico. Mentre l'altro, che chiama Patches, è un po' più serio. John quindi si traveste da questi personaggi in base al suo umore. E contro ogni mia previsione, a quanto pare, i bambini lo amano. E anzi tutti in città si rendono conto che lui sta cambiando in meglio. Sta diventando un uomo davvero affidabile e premuroso. Ma ora basta parlare delle apparenze perché dobbiamo entrare nel privato di questa persona e capire perché tutto quello di cui vi ho parlato è solo appunto un'apparenza. Cominciamo dal suo matrimonio con Carol. Sembravano felici insieme, ma una cosa che nessuno sapeva è che all'inizio del loro matrimonio John le disse di essere bisessuale. Lei in qualche modo aveva accettato la cosa, ma tempo dopo lui le disse che non avrebbe mai più voluto avere rapporti intimi con lei. Mai più. Carol rimase abbastanza scioccata da questa cosa, cioè non riusciva a spiegarselo. In quel momento capisce che suo marito è più interessato agli uomini che alle donne, anche perché frugando tra le sue cose scopre varie riviste omosessuali. Ma non riesce a spiegarsi perché non l'amasse più e perché non volesse più avere rapporti con lei. Da quel momento quindi iniziano a litigare spesso e sempre più animatamente. Poi addirittura lei inizia a vedere John portare costantemente in garage dei giovani ragazzi, quindi non può che pensare male. Lui però le dice di farsi i cazzi suoi perché non si deve intromettere nei suoi affari. Per tutto questo, dopo l'ennesima brutta litigata, i due alla fine decidono di divorziare. Per un po' le bambine di Carol rimangono in quella casa con John, ma alla fine se ne vanno anche loro. John si ritrova solo, ma non gli dispiace affatto. Perché adesso è davvero libero di fare quel che vuole. E cosa vuole fare il nostro John? Semplice, continuare a molestare i ragazzini. Da bravo, tra virgolette, cacciatore, riesce ad ingannare le sue prede, sa come attrarle a sé e sa come catturarle per farci letteralmente quello che vuole. E per quello che vuole intendo anche uccidere. Non uccide sempre, a volte si accontenta di rovinare la vita ai ragazzini stupandoli e poi lasciandoli andare. A volte recluta giovani che fanno l'autostop, altre volte li attira grazie al lavoro della sua ditta. Spesso poi decide solo di averci dei rapporti sessuali in cambio di favori, come alcol e droga. Oppure per esempio se chi lavorava per lui chiedeva un aumento o veniva accontentato solo se ci andava a letto. Cioè se eri un ragazzo giovane e lavoravi per lui eri costantemente in pericolo. E indovinate chi lavorava per lui? Praticamente solo ragazzi giovani. Comunque durante questi terribili rapporti John di tanto in tanto si traveste da clown e fa dei giochi con loro. In questi giochi li ha manetta con la scusa di fargli vedere un trucchetto per liberarsi. Poi dice loro che serve la chiave, ma questa chiave ce l'ha lui. Quindi l'unico modo per ottenere la chiave e liberarsi in sostanza è farsi stupare da lui. Dal clown. Un altro gioco che questo psicopatico ama fare è mettere un cappio al collo della sua preda, poi stringere, fino ad ucciderla dal gioco. Ovviamente nessuno di questi è un gioco, veramente. Cioè lo è solo per lui nella sua testa. Quei giovani ci cascavano solo perché lui era riuscito a convincerli. Ricordate che John è un uomo carismatico che tutti rispettano. Per lui non è affatto difficile abbindolare dei ragazzini. Ma come detto prima non uccide tutti quelli che incontra, anzi con alcuni si scusa pure e dice loro che era tutto uno scherzo. Sa come rigirare un discorso, sa come farti dubitare, sa come renderti suo in poco tempo. È anche un abile chiacchierone, l'abbiamo sempre detto. Ed è così che usa pienamente questa sua abilità. A questo punto però so che vi state chiedendo una cosa, cioè se c'è stato qualche sopravvissuto ai suoi attacchi, perché non lo ha denunciato come aveva fatto Donald? Ecco non ho una risposta certa, ma credo che in quel periodo essere un uomo e ammettere di essere stati sottrati fosse come un tabù insormontabile. Cioè ammetterlo avrebbe distrutto completamente la mascolinità delle vittime. O almeno questa era la mentalità. Per cui immagino che in parte il motivo fosse anche questo. La vergogna. Ma è solo una mia supposizione. Oltre a ciò però ho un dubbio. Possibile che l'ormai ex moglie Carol non avesse scoperto nulla? Perché John aveva già iniziato ad adescare le sue vittime quando era ancora sposato con lei. Lei aveva anche visto dei ragazzi entrare nel suo garage, ma forse pensava si trattasse solo di sesso? O forse sapeva o si immaginava qualcosa? Ma è probabile che lei comunque più di tutti avesse paura di denunciarlo. Quindi ha deciso di scappare. Perché John, d'ora in poi, diventa un vero e proprio mostro. Se vissi alle sue vittime, gode nel vederle agonizzanti e le torna dura senza pietà. Adesso prova un sincero piacere fisico nel vedere tutti quei ragazzi sotto il suo totale controllo. Non ha più freni. E vestirsi da clown mentre fa queste cose, per lui, è il massimo del godimento. Ma c'è un problema. Oddio, in realtà ce ne sono migliaia di problemi. Ma comunque, come ogni serial killer, deve trovare il modo di nascondere i corpi. Perché è ok che per il momento nessuno sospetta di lui, ma in casa sua inizia a sentirsi una terribile puzza di putrefazione. Inizialmente teneva i corpi sotto il suo letto e poi li seppelliva in un intercapetine sotto casa sua. Uno invece lo ha addirittura cementificato dentro la struttura di un nuovo barbecue. E vi ricordo che su quello stesso suolo, ogni settimana, centinaia di persone partecipavano ai grandi barbecue di Gacy. Senza sapere che sotto i loro piedi, e dentro al barbecue in cui cucinavano il loro cibo, c'erano i resti di decine di ragazzi. Pensarci fa rabbrividire. Ma la cosa davvero spaventosa è che John ha potuto continuare ad uccidere per anni. Si stima che i delitti siano partiti dal 1972 e siano terminati solo nel 1978. In tutto questo tempo, tanti, troppi ragazzi sono finiti sotto le sue grinfie. E quando dico troppi, è perché sono davvero troppi. Pensate che ad un certo punto Gacy esaurisce lo spazio. Nell'intercapetine in cui seppelliva le vittime non ce ne stavano altre. Quindi pensa di mettere gli altri corpi in soffitta, ma cambia velocemente idea. Decide allora di iniziare a gettarli nel fiume De Plaine. In questo stesso periodo, nello specifico l'11 dicembre del 1978 alle 21 di sera, uno studente di 15 anni di nome Robert Pist sta finendo il suo turno in una farmacia. Sua madre, come al solito, sta andando a prenderlo per portarlo a casa. Quel giorno però è un giorno speciale perché è il 46esimo compleanno della mamma di Robert. E sono tutti molto contenti di festeggiarlo. Così la madre arriva in macchina alla farmacia e Robert le va incontro. Le dice però di aspettare un minuto, solo un minuto, perché un uomo gli stava offrendo un lavoro presso la sua ditta di costruzioni. Robert le dice che gli sta offrendo il doppio della paga rispetto alla farmacia e che sembrava davvero una grande opportunità per lui. La madre quindi tranquilla gli dice di andare pure, lo aspetterà lì senza problemi. D'altronde perché sospettare qualcosa di terribile? Sarebbe tornato subito, giusto il tempo di finire di chiacchierare con quel tipo. Eppure passano i minuti e Robert non fa ritorno. A quel punto la madre giustamente si preoccupa da morire. Insieme al resto della famiglia si mette a cercarlo ovunque, ma non c'è più traccia di lui. È come se fosse sparito nel nulla. Verso le 23 dello stesso 11 dicembre, la madre di Robert va dalla polizia e fa una denuncia di sparizione. Il dolore è atroce, fortissimo. Quel giorno doveva essere un giorno di festa, ma si è trasformato in una tragedia. C'è però un piccolo faro di speranza. Praticamente il tenente di polizia che prende in carico la sparizione di Robert la prende molto sul personale. Nel senso che suo figlio va nella stessa scuola di Robert ed empatizza molto con i genitori del ragazzo. Fa di tutto per portare a termine l'incarico. Perché in un certo senso pensa, cavolo, poteva succedere la stessa cosa a mio figlio. Così durante le indagini scopre una cosa molto molto interessante. Ovvero che la ditta di John Wayne Gacy aveva lavorato proprio per la farmacia dove lavorava Robert. Robert, d'altro canto, la sera della sparizione aveva detto a sua madre che il titolare di un'impresa edile lo stava reclutando. Quindi tutto torna. Evidentemente John ha avuto a che fare con questo Robert. Il tenente così riesce a rientracciare John e lo chiama per un interrogatorio. Quest'ultimo però, mentre riceve la telefonata, sta facendo tutt'altro. E non è assolutamente pronto a rispondere. Infatti si sta sbarazzando proprio del corpo di Robert. Ma risponde comunque e mentre parla con la polizia, traffica col cadavere di Robert. Lo carica in macchina e lo porta al fiume per gettarlo. Una volta finito si reca proprio dal tenente per questo interrogatorio. Quella notte però dice di aver avuto dei problemi all'auto e si presenta in stazione di polizia verso le 3 di notte ricoperto di fango. Gli dicono quindi di non preoccuparsi e di ritornare il giorno dopo. E lui il giorno dopo ritorna. Non scappa, non finge nulla, si comporta proprio dal classico bravo cittadino che ha sempre fatto credere di essere. Tutta apparenza ovviamente, noi lo sappiamo. Ma ora finalmente le sue bugie non avrebbero più funzionato. Quindi alla fine parla con questo tenente e proprio lui nota subito che John ha qualcosa che non va. Gli chiede se possono perquisirgli la casa e anche stavolta accetta. All'inizio esita un po', ma alla fine accetta senza problemi. Quindi la polizia entra a casa sua. La prima cosa che sentono gli agenti è una puzza insopportabile. Una puzza che conoscono bene. L'odore della decomposizione. Trovano subito le sue riviste. Alcune manette. Degli aghi. Delle corde. Una pistola. E un fallo finto di più di 45 centimetri. Tutto decisamente sospetto, ma non risulta niente che lo collegherebbe a Robert. Quindi sì, capiscono che quest'uomo ha delle perversioni molto spinte, ma non scoprono ancora nulla di certo. Però subito dopo trovano un anello. Un anello che apparteneva a un ragazzo scomparso. Non Robert, un altro. Quindi perquisiscono anche i veicoli dell'uomo e un'unità cinofila sente che nel bagagliaio della sua auto c'è ancora puzza di cadavere. A quel punto John è un sospettato. Ma non può permettere che la sua tanto sudata reputazione vada di nuovo in fumo. Non di nuovo. Così prende un avvocato e fa causa alle forze dell'ordine per danni alla reputazione, chiedendo 750 mila dollari di risarcimento. L'avvocato di John dice che è inaccettabile quello che sta facendo la polizia. Perché lo seguono, gli fanno domande, gli perquisiscono casa. È semplicemente inaccettabile. Dato che non ci sono prove della sua colpevolezza, e dato che John secondo tutti è un uomo onesto, anche secondo il suo avvocato. Eppure, ecco che finalmente arriva la svolta. Il 21 dicembre 1978, John viene pedinato mentre si trova in un distributore di benzina. Lì Gacy consegna un pacco con della marijuana ad un altro uomo. E con questa scusa lo fermano e lo mettono sotto custodia per perquisire nuovamente casa sua. Se non ci fosse stato quello scambio di droga, avrebbero avuto molta difficoltà ad ottenere un nuovo mandato di perquisizione. Ecco quindi l'occasione perfetta. Ma una cosa curiosa è che prima di tutto questo, poco prima dell'arresto al benzinaio, John era dal suo avvocato per parlare della causa contro la polizia. Stava leggendo il giornale quando si imbattè nella notizia della scomparsa di Robert. A quel punto disse chiaramente e ad alta voce che il ragazzo era morto e si trovava nel fiume. L'avvocato rimase in silenzio e John cominciò. Iniziò a raccontare tutti i suoi crimini a ruota libera, senza mostrare alcuna emozione. Spiegò come, dove e quando aveva ucciso. L'avvocato ancora una volta rimase in silenzio. Un po' per metabolizzare il tutto, ma anche per capire come difenderlo in caso di un processo. Una volta finito il discorso, John, incredibilmente, si mise a dormire. Dopo aver raccontato tutti i dettagli atroci delle sue gesta, è comunque abbastanza spensierato da riuscire a dormire. Viene poi svegliato dall'avvocato, ma come se nulla fosse, si alza e se ne va. È in quel momento che si reca al distributore per consegnare l'erba, ed è lì che viene arrestato. A quel punto le forze dell'ordine hanno di nuovo la scusa per curiosare tra gli averi di John. E una volta giunti di nuovo a casa sua, sentono ancora una volta l'odore della putrefazione. John, per giustificarsi, dice che c'erano dei problemi al sistema fognario, ma a questo punto non gli crede più nessuno. E infatti, controllando meglio ogni centimetro della sua casa, si accorgono di una sorta di botola che porta all'intercapedine sotto casa sua. Aprirla è stato come aprire la porta dell'inferno. Lì dentro c'era un vero e proprio cimitero. Ci vollero giorni, anzi settimane, per riesumare tutti i resti da lì sotto. Erano tutti in uno stato di shock. Non si era mai vista una cosa del genere, non si era mai vista tanta crudeltà, non era mai accaduta una cosa simile. Parliamo di circa 30 corpi in vari stati di decomposizione, sepolti sotto un'unica abitazione. E' davvero sconvolgente. John, a questo punto, non ha più scampo. E' a tutti gli effetti un serial killer. E come tale deve essere punito. Vengono a galla prove, testimonianze e ricostruzioni. Non c'è avvocato al mondo che possa difenderlo sul serio, perché... Cioè, non c'è nulla da difendere. Al processo non funziona neanche la tattica dell'infermità mentale, perché per quanto fosse disturbato, John è sempre stato cosciente e lucido durante gli omicidi. Ha scelto volontariamente di travestirsi da clown per torturare le sue vittime e per giocare con le loro vite. E così, malgrado le sue insistenze e i suoi reclami, alla fine John Wayne Gacy viene riconosciuto colpevole di omicidio plurimo e condannato a morte. Dopo la sentenza di colpevolezza, lo stato dell'Illinois trasferisce il killer clown al Maynard Correctional Center, dove rimane per 14 lunghi anni nel braccio della morte. Anche questa volta inizia a piangere spesso, ma non ha interesse a diventare migliore, e non ha neanche interesse ad uscire perché tanto sa che dovrà morire. Perciò fa una cosa particolare, inizia a dipingere. I soggetti delle sue opere sono vari, anche se principalmente ama dipingere i suoi due personaggi clown, Pogo e Patches. Molti dei suoi dipinti verranno venduti nel corso di varie aste, con prezzi oscillanti tra i 200 e i 20.000 dollari. Online ci sono anche delle foto di questi dipinti, e li trovo a dir poco inquietanti, anzi angoscianti, specialmente se pensiamo a tutto quello che nascondono, alla storia che raccontano. La sua personale storia, tuttavia, finisce il 10 maggio 1994. John Wayne Gacy viene giustiziato per iniezione letale. Si dice che le sue ultime parole prima della morte furono semplicemente «bacciatemi il culo». Finisce così la vita del clown peggiore di tutti i tempi. Ma aspettate, non abbiamo finito. Ad oggi molte vittime di Gacy sono state identificate, ma ancora troppe rimangono senza un nome. Erano tutti ragazzini innocenti che non avevano fatto niente, e almeno quelli che conosciamo meritano un attimo di attenzione. State attenti perché ora capirete proprio che queste persone non sono solo un numero, e questa parte del video vi farà capire che mostro è stato Gacy. Ecco le vittime identificate. Tim McCoy, di età sconosciuta, è stato ucciso il 2 gennaio 1972. John Batkovic, di 16 o 17 anni, è scomparso il 31 luglio 1975. Aveva lavorato per John e il suo corpo è stato sepolto sotto il garage. Darrell Samson, di 18 anni, è scomparso il 6 aprile del 76. Randall Raffet, di 15 anni, è scomparso il 14 maggio del 76. Samuels Stapleton, di 14 anni, è anche lui scomparso il 14 maggio del 76. Michael Bonin, di 17, è invece scomparso il 3 giugno del 76. William Billy Carroll, di 16 anni, è scomparso il 10 giugno del 76. Rick Johnston, di 17 o 18 anni, è scomparso il 6 agosto del 76. Tra poco, in uno screenshot, vi mostro gli altri. Non vi dirò tutti i dettagli di tutti perché sarebbe ridondante, ma è giusto ricordarli e ricordare i loro nomi. Sono Gregory Godzik, John Zick, John Prestige, Matthew Bowman, Robert G. Roy, John Mowery, Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Baling, David Talsma, William Kindred, Tim O'Rourke, Frank Wayne Dale Lengen, Giacomo Mazzara e, infine, Robert Pist. Ora che vi ho detto tutti questi nomi, vi siete fatti un'idea di quante vittime innocenti ci fossero? Dicendo semplicemente dei numeri, spesso non ce ne rendiamo conto. Ma ognuno di loro, ogni singolo nome che vi ho detto, aveva una vita davanti a sé. Era giovane, innocente, ma ha avuto la sfortuna di trovarsi sul cammino di Gacy. E come sappiamo, da quel cammino non c'è modo di ritorno a casa. O meglio, per alcuni pare di sì. Jeff Rignall e Robert Donnelly sono due ragazzi che sono riusciti a scappare dalle grinfie del clown più spaventoso della storia. Ma comunque sono state vittime dei suoi abusi. La carneficina, tuttavia, come sapete, non si interrompe neanche qui, perché ci sono ben otto vittime rimaste tuttora non identificate. Pensate alle condizioni in cui erano i resti per non essere riusciti a identificarli in tutto questo tempo. Si parla ovviamente di ragazzi. Tutti e otto erano ragazzi bianchi e sono tutti morti indicativamente tra il 73 e il 78. Per tutti non è stato possibile rilevare DNA o impronte digitali. Per questo nessuno di loro oggi ha un nome. Si stima che la loro età fosse compresa tra i 15 e i 28 anni. Tutti i nomi che vi ho detto, e anche gli otto non identificati, non erano numeri. Erano persone come me e te. E si ipotizza addirittura che altre potenziali vittime non siano mai state scoperte. Anche perché John aveva cominciato a buttarle nel fiume. Negli ultimi mesi della sua vita, John ha dimostrato un'apatia spaventosa e un umorismo a dir poco rivoltante. Aveva dichiarato prima di morire che uccidere per lui era diventato puro godimento. Non è chiaro se durante le sue esecuzioni interpretasse il clown Pogo o Patches. Ma poco importa perché contano i fatti. E quello che è successo è a dir poco devastante. Sono semplicemente sconcertato da questo caso perché probabilmente molte cose si sarebbero potute evitare. Voi invece cosa ne pensate di tutto questo casino? Una cosa interessante che voglio chiedervi è, secondo voi, se John avesse avuto un altro tipo di famiglia, un altro tipo di infanzia, avrebbe fatto queste cose? Oppure no? Fatemi sapere quindi se secondo voi è un fattore che riguarda la genetica, oppure è qualcosa di fortemente legato alla vita di una persona, al trascorso di una persona. In questo caso io credo che la sua infanzia, ma in generale come ha trascorso tutta la vita, le cose che gli sono successe, eccetera, tutto ciò, sommato, ha portato al comportamento omicida, seriale. Ma comunque fatemi sapere la vostra. Per i pochissimi fedeli che rimangono fino a qui, anticipo che ho in programma di raccontarvi la storia di una ragazzina che in molti credono tuttora fosse la figlia di Satana. Quindi spero che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao! Ciao!